Sarremo con i 18 ragazzi per questa iniziativa sul sociale che ha voluto Porte Managing in tema di situazione fare arte all'Unione Italiana UCECHI, un progetto importante con cui vogliamo abbattere ogni forma di barriera fisica, psicologica e architettonica tramite la musica. I ragazzi si serviranno in un evento musicale all'interno dell'edizione FIDRO e quindi sono veramente felici di aver portato avanti questa iniziativa che sicuramente dà la visibilità non solo a TERO ma all'interno regionale.